Questa sera l'Italia affronterà il Belgio e questa sarà una partita molto tosta perché sappiamo tutti che il Belgio è una nazionale veramente forte e sono veramente curiosa di vedere la prestazione della nostra nazionale, come affronterà il Belgio. Una nazionale che è presente a dei volti nuovi, tra cui Daniel Maldini che continua così la dinastia della famiglia Maldini in nazionale e il portiere della Juventus di Gregorio. Vedremo questa partita, ci aspettiamo veramente di vedere una bella nazionale, una nazionale che dovrebbe giocare in attacco con Eretegui che questo giocatore sta veramente facendo benissimo all'Atalanta, ha già segnato veramente tanti gol in queste prime giornate di Serie A e speriamo che segni altrettanti gol anche in nazionale. Scrivi nei commenti se vedrai la partita e secondo te come finirà il match. Ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube per non perderti i prossimi video in uscita. E noi a questo punto ci vediamo al più presto con un nuovo contenuto. Ciao!